Bene amici, ci siamo. Io sono Mr. Lull e spero che questo possa essere davvero l'ultimo video sull'argomento prima dell'ufficialità in gazzetta. Ansa e Sole24ore hanno raccolto dichiarazioni in discrezioni importanti filtrate dal preconsiglio dei ministri di ieri sera con sorprendenti novità sui contenuti proprio ovviamente del decreto sostegni bis. Vi spiego tutto, sigla, mi raccomando prima un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! Quindi l'Ansa ieri sera dopo la riunione di maggioranza che c'è stata proprio in merito al decretissimo ci aggiorna su novità molto importanti in merito proprio al pacchetto lavoro, aiuti e famiglie. Oltre alla conferma dei bonus onnicomprensivi, su cui però torniamo tra poco, si parla di 4 4 nuove mensilità di reddito di emergenza per dare una copertura quindi alle famiglie più in difficoltà fino al mese di settembre. Diciamo quindi che al netto dei mille guai che sta combinando purtroppo l'Inps sarebbe davvero una bella iniziativa continuare a dare un po' di ossigeno alle famiglie, ai nuclei più in difficoltà fin dopo l'estate. Poi ancora sgravi per le assunzioni, nuovo contratto di rioccupazione e cancellazione del famoso taglio, decalage della Naspi, disoccupazione fino almeno alla fine dell'anno. Confermati anche 500 milioni per i comuni, per i famosi buoni pasto, buoni spesa, bonus bollette e affitti. Tornando però a bomba sul tema bonus è proprio il sole 24 ore di questa mattina in edicola che nel fare l'analisi del nuovo provvedimento dice, e cito, viene poi rifinanziata l'unatantum di 2400 euro per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e degli altri settori assieme a intermittenti, autonomi occasionali, venditori a domicilio e lavoratori a termine del turismo. Dunque il quotidiano economico pare sicuro che si stia andando nella direzione di una conferma dei 2400 euro unatantum rispetto a quelle due generiche mensilità che erano indicate nella bozza del provvedimento del 30 aprile. Nessuna indicazione invece ancora precisa purtroppo per il mondo agricolo. Il bonus lo sappiamo, ci sarà al 100%, però non abbiamo informazioni sui dettagli e sugli importi. attenzione però ricordo che si tratta di anticipazioni di fonti testate certamente importanti ma non infallibili, quindi usiamo sempre le pinze e come diceva mia nonna speriamo per il meglio ma attendiamoci il peggio. Era così? Sì, credo di sì. Detto questo video abbastanza flash fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e spero che il prossimo video possa essere sul testo ufficiale sicuro definitivo al 101%. Un saluto a tutti, mi raccomando un bel like per sostenere video e canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. Alla prossima da Mr. Lul.